La scorsa notte intorno alle tre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villetta a Salzano in provincia di Venezia per l'incendio di un'auto finita prima contro uno spigolo del sottopassaggio. Feriti i due giovani, le due persone a bordo della Peugeot 206 finiti dopo l'urto nel centro strada seppur feriti sono riusciti a venire fuori dall'auto che aveva preso fuoco. I pompieri arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotta e sette operatori hanno spento le fiamme dell'auto andata completamente bruciata. I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale a Mirano e a Dolo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate in mattina intorno alle 5 con la rimozione del mezzo da parte del carroattrezzi.